Questo giovedì, servizio pubblico non andrà in onda. Ma non vi preoccupate. La Fornace TV, a partire dalle 17, trasmetterà tutte le produzioni prodotte dalla Revolushona ad oggi, Palinsesto 2011-2012, la presentazione. Conduco Ono Bandana e Tom Sis. Ore 17. Camminando per la stazione, nevitata primo febbraio 2012. Ore 17.45. Metti un pomeriggio a Villalba, nevitata 4 febbraio 2012. Ore 17.50. La Fornace per il ciclismo, in giro per l'Orvietano, percorso. Allerona Scalo, Monte Rubiaglio, Castel Viscardo, Sferracavallo, Allerona Scalo. Col Tom Sis. Ore 18. Speciale nevicata a Dallerona 10, 11 e 12 febbraio 2012. In studio Ono Bandana. Ore 18.15. 150 anni insieme, da Poggio Parile ad Orvieto per essere italiani. Ore 18.40. Compagnia di Mastrutitta, mamma mia. Ore 20.30. La Fornace TV, sforniamo grandi, momenti di televisione.